Buonasera della Serie F Sport, siamo qui con i Biori in campo dopo la partita tra Maccabi e gli Etnei con Abib Allah dei Maccabi. Partita perfetta, risultato 8-1. Cosa ci dici della tua squadra? Hai giocato bene oggi? Abbiamo giocato benissimo, abbiamo giocato, abbiamo un giocatore troppo proprio, alla fine è andata benissimo. Ricordiamo che comunque il tuo apporto alla squadra si vede, infatti la scorsa partita tu mancavi e la squadra non ha girato in questa maniera. Diciamo che tu sei un elemento importante di questa squadra. Sì, sì, ma anche la partita scorsa siamo state sfortunate, siccome c'è un giocatore che è infortunato abbiamo giocato in 4. Sì, lo ricordiamo, il giocatore che è stato non... Caravani, che si è infortunato e hanno giocato in 4. Va bene, Abib Allah, ti ringraziamo per vedere in campo. Grazie a voi. Dalla serie F Sport è tutto, alla prossima.